Da sempre sensibile sostenitore della cultura e di importanti iniziative editoriali, il Consiglio regionale del Piemonte è presente alla 25esima edizione del Salone Internazionale del Libro, in programma all'Ingotto Fiere di Torino fino al 14 maggio. Lo stand e congiunto del Consiglio della Giunta regionale, denominato Spazio Piemonte, è collocato nel padiglione 3 del Salone e ospita anche alcuni appuntamenti della provincia e del Comune di Torino. In programma un calendario fitto di incontri e tavole rotonde, alcune dei quali anche in diretta video sul sito www.cr.piemonte.it. A contraddistinguere l'identità di questo spazio è il vario pinto logo creato per l'occasione dall'artista Ugo Nespolo, che raffigura il Piemonte, il logo dell'Assemblea Legislativa Piemontese, con alcuni luoghi simbolo che identificano le istituzioni partecipanti, Palazzo Lascaris, la Sacra di San Michele, il Forte di Fenestrelle e la Mole Antonelliana. Fra gli appuntamenti del ricco calendario si segnalano due eventi legati più spiccatamente al tema centrale del Salone di quest'anno, ovvero la rete e le tecnologie digitali. La prima è una tavola rotonda, prime tappe per un'agenda digitale regionale, in cui esperti del settore si confrontano sulle strategie e le azioni per costruire un'economia innovativa per il Piemonte. Il secondo appuntamento riguarda le minoranze linguistiche nell'era digitale, un dialogo a più voci fra rappresentanti delle minoranze linguistiche piemontesi che mettono in luce come Internet si sia rivelato uno straordinario mezzo di valorizzazione dell'identità e del patrimonio culturale di queste comunità.